I piccoli risparmiatori che hanno perso i propri risparmi nella crisi che ha coinvolto Banca Marche, Truria, Carife e Carichietti si stanno muovendo. Solo in Banca Marche sul territorio riminese si parla di oltre un migliaio di persone e per lo più in Valmarecchia. Piccoli risparmiatori che hanno perso il proprio denaro perché investiti in azioni e obbligazioni nei quattro istituti di credito falliti e che oggi non hanno la possibilità di ottenere dalle banche la restituzione dei risparmi. Si va dai 5 ai 10 mila euro del pensionato fino ai 200 mila dell'imprenditore azzerati dopo la cura decisa per il default delle quattro banche. In molti si stanno rivolgendo alle diverse associazioni di consumatori per ottenere una tutela. La tutela sarà un'analisi individualizzata posizione per posizione, assistere gli investitori per cercare di ottenere un risarcimento del danno laddove il risarcimento del danno potrà essere richiesto nei confronti degli ex vertici della banca che era la banca presso cui erano stati effettuati questi investimenti, quindi consiglio di amministrazione, collegio sindacale, direttore generale, società di certificazione, istituto di vigilanza, cioè Banca Italia, tutti i soggetti che erano tenuti a gestire, controllare e vigilare sulla situazione in modo che non si dovesse verificare come non si doveva verificare ciò che invece purtroppo è accaduto. L'altro tipo di assistenza consiste in un aiuto, in una consulenza per questo nuovo strumento che è stato adottato adesso dal governo con un decreto che demanda all'ANAC a Cantone l'attivazione di procedure arbitrali per cercare di non risarcire ma rimborsare nei limiti del possibile, cioè del fondo a disposizione del governo, coloro che hanno perso i propri risparmi. Incontri pubblici verranno organizzati a breve anche da Lega Consumatori per presentare lo stato dell'arte e ciò che si può fare per assistere gli aderenti a questa iniziativa. In un secondo momento i casi verranno valutati singolarmente verificando se ci sono i presupposti per un'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti responsabili. Al momento è possibile quantomeno contattare per chi volesse, per chi si sentisse danneggiato dalla situazione in essere, contattare la segreteria della Lega Consumatori presso le ACLI, rilasciare il proprio nominativo e il proprio numero di telefono. Verranno ovviamente ricontattati e inizialmente sicuramente proveremo ad ascoltarli, ad acquisire la documentazione e poi successivamente o contestualmente fare questi incontri pubblici.